Nessuna nomina di un nuovo coordinatore provinciale del partito in provincia di Salerno, ma ci sarà un comitato provinciale che da Celano, consigliere comunale di Forza Italia, la di Nolfi e europarlamentare, guiderà il partito di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Sia il coordinatore regionale che il suo vice Martuscello Desiano non si sono lasciati andare a nomi questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta al Bar Moca, ma soprattutto hanno ribadito serenità nonostante la fuoriuscita di Mara Carfagna e dei suoi. Questo comitato si avvia anche sul territorio di Salerno e il lavoro in vista della definizione di quelle che saranno le candidature per le prossime politiche? Sì, è un coordinamento elettorale che avrà il compito di governare la campagna elettorale, di far arrivare ovunque in provincia di Salerno il messaggio di buon governo del centro-destra. Abbiamo qui classe dirigente capace di organizzare un partito e di fare un grandissimo risultato. D'altronde Salerno ha sempre prodotto buona classe dirigente nei comuni, nei consigli provinciali, quindi abbiamo grande fiducia delle persone che avranno questa responsabilità. Mancherà però Mara Carfagna, mancherà Gigi Cascello, appunto lei faceva riferimento a personaggi che hanno fatto Forte Forza Italia, sentirete la mancanza? Ma guardi, noi ci siamo ripromessi di non nominare in campagna elettorale quelli che sono andati via, perché la nostra campagna elettorale guarda avanti e non guarda a quello che c'è alle spalle. Siamo qui a Salerno proprio perché dobbiamo organizzare con Forza Italia la campagna elettorale. Siamo venuti per far sì che si possa essere recuperativo da subito il coordinamento per la campagna elettorale in una provincia importante come Salerno. Noi abbiamo Salerno che storicamente con la provincia e la città alle elezioni nazionali hanno sempre fatto un ottimo risultato per Forza Italia. Dobbiamo lavorare in questo scorcio di tempo, anche se brevissimo, per fare in maniera tale che si possa ripetere i risultati delle elezioni passate. Da dove si riparte? Ma si riparte da Salerno e da coloro i quali a Salerno hanno sempre partecipato attivamente a quella che è stata la vita politica di Forza Italia.